Per terminare questo nuovo video, oggi vi faccio vedere il mio libro Che bello, che cos'è Amidori? In questo ci sono gli animali che sono già vestiti Ah, praticamente sono dei cartoncini colorati Con i disegni degli animali Poi Guardate Guardate i lividi che ha Amidori anche sulle gambe Perché lei si butta per terra Guardate Vedete, lei già li ha fatti un po', vero? Sì Vedete, ci sono anche gli adesivi Ci sono gli adesivi delle magliette, dei pantaloni, le scarte Dei cappotti che sono finiti Dei cappotti che sono finiti, degli occhiali, baffi Insomma, tutti gli adesivi per farci cosa? Per tatuare gli animali Però guardate, vedi, ci sono anche i stickers Eh, i stickers sono quelli Vi farei che cosa per vestire gli animali, no? Sì Dani, vogliamo fare uno? Sceglilo tu Quale vuoi fare, eh? Il coccodillo Facciamo il coccodillo Allora, aspetta che vengo dalla tua parte così si vede bene Così qua Allora, Amidori ha scelto il coccodrillo Sì, eh, sto cercando qualcosa per lui Adesso cerchiamo cosa metterli Ecco, abbiamo trovato un paio di pantaloni belli con i cuoricini Mi do Sì, se c'è un problema per staccarli Piano piano Così Questo, non l'abbiamo detto, che è questo quaderno Sì Quei cogli adesivi l'abbiamo comprato da Tiger E gli hanno 4 euro Sì Adesso lo trovate ancora Allora, vai Abbiamo scelto questi Facci vedere, facci vedere Questi bei calzoncini con i cuoricini Vai Vediamo come gli vanno il coccodrillo, va Ma benissimo Perfetti Gli piacciono molto, eh Lo vedo molto felice Adesso una bella magliettina Forse le magliette le abbiamo finite, però Mh, veniamo un po' Mh Ah no, ecco Ecco Mettiti questa qua, che è da maschietto, no? Babbè, me la voglio fare femmina Aspetta un po', vediamo se qua dietro ci stanno altre magliette No, queste sono finite Ma vuoi fare femmina? Sì Vabbè, allora E metto questa qua con la gonna No, no, quella è una maglietta con Con tipo le frange, le onde Piano piano che si rompe, eh Aspetta, ti aiuto io che questo è un po' difficile Vai Ok Ricerchiamo il coccodrillo Con sole, mamma Eh, fa vedere, fa vedere È lilla Violetta Con sole giallo Dov'è il nostro coccodrillo? Eccolo No Eccolo Vai Un po' più giù, un po' più giù Che così vedi, va sulla bocca Sopra, un po' sopra i calzoncini questa qua Ecco Che carino Wow, ma che cosa gli vuoi mettere, Mildi? È i guanti Che cosa? I guanti I guanti Ma non è estate, c'è i calzoncini Chi gli servono i guanti? Mettiamogli un'altra cosa, vediamo Le cappe Le scarpe? Eh, non so se ce le abbiamo ancora Ah, sì, sì, vai Guarda quante ce le abbiamo, c'è Guarda Chi gli dici, grigio, le mettiamo? Così si abbinano i pantaloni? Aspetta, mamma Diamo un bel cappellino Ma che c'entra questo cappellino? Quello è invernale Prendiamone uno di questi Dai, che sono carini, guarda Tutti colorati C'è uno Questo rosso, io direi Che dici? Eh, questo qua è marrone Quello è marrone, vai Anzi, questo qua è verde Piano, eh Si rompe Piano, piano, piano Bravissima Adesso ricerchiamo il nostro codrillo Però stavo all'inizio, mi ricordo Eccolo E gli attacchiamo questo bel cappellino Sulla testolina Eccolo Lo attacchiamo bene, è vero? Sì Adesso le scarpine, dai Non gliel'abbiamo più messe, poi Dove stanno? Eccole Oh Eccole qua Spendiamo con le grigie, avevamo detto? Sì Vai Vai Ce la fai? Questo libro, questo quaderno libro, come volete chiamare, è molto divertente Sì, perché ci sono anche tutti gli animali diversi, certo Tutti gli animali diversi, certo A noi ci piace molto E noi sappiamo che ce n'è anche uno con tutte le facce Sì Ok Dai, adesso prendiamo gli scappi Sì Questo è qui il grigie Aspettate 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 Che piano piano mi dà lì ci riesce Ecco qua Ok Prima capetta grigia Ecco Oh Messa Brava Vediamo quell'altra Dove stavano? Qui? Sì Vai Ok Ci abbiamo finito il nostro coccodrillo, faccelo vedere un po' migliore Allora, cosa gli abbiamo messo? Spieghiamoli Abbiamo messo il cappellino, i cuoricini, uno qua, uno sull'acqua e uno sull'acqua Perché è innamorato? Sì Infatti Poi gli abbiamo messo uno occhiato Uno solo perché ci si vede solo un occhio e l'altro sta dietro Sì Un cappellino verde Poi questo vestito che a parte è un po' matto Che c'è un pensone E questi pantaloncini E poi un uccellino che vola Una fuffonia sull'ambra E basta E basta Ecco qui il nostro capolavoro Ne abbiamo fatti tanti altri, però non ve li facciamo vedere perché sono tantissimi Vabbè, facciamoli vedere Li facciamo vedere? Allora, aspetta Cominciamo dall'inizio Allora, questo è quello che abbiamo fatto oggi Sì Poi Midori ha fatto Questo Questo elefante Che ha anche il cappotto Sì Poi, vediamo Questo che non c'è niente Un panda Un panda, sì, però Il panda ha tantissime cose Ha una gonna Una maglietta Un giacchetto Un gilet Un gelato I palloncini Una scarpa nera E una blu Vero Midori? Vero un altro palloncino Eh sì Poi il maialino C'ha solo i calzoncini No, il maialino è un gatto Chi è? Non si capisce Un topino Un topino Poi questo coniglio ha tante cose Guardate Due lumachine sul prato Sì Un gelato Un cappotto I festoni Quindi il suo compleanno Sì Il sole Il sole Ha pure il fiocchetto Il gelato Il suo cappotto E i palloncini E le cappe Poi abbiamo fatto un orzetto Sì Un leoncino Sì Questi ancora li abbiamo fatti Anche questi Abbiamo fatto un elefantone Buffissimo Con i baffi Un gattino con la chitarra Un po' un coccodrillo Solo con la connellina Vediamo Vediamo Guardate Un coniglio bellissimo Con questi occhialoni Anche questo è molto bello Midori Con lo stereo Le banane E questo bellissimo coniglietto Noi c'è così da tutti Tutti gli adesivi Abbiamo quasi finito Sì Va bene Midori Ciao Saluto a tutti Ciao E facciamo un'altra cosa Ciao 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 Grazie a tutti.